La Fiorentina, frastornata dall'inventiva del tandem d'Ossena-Ernandez, passa in svantaggio dopo appena 13 minuti, ad opera di Beruato, uno dei Granata più incisivi. Alla fine del primo tempo, un'altra ingenuità della Fiorentina, che lascia Torrisi smarcato in area, propizia il raddoppio di Borghi, dopo l'unica svista del suo controllore, Pimmo.